Musica Venerdì 5 aprile, bentrovati, buongiorno dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Donato Mignogna. In apertura parliamo di sanità e in particolare dei ricoveri ospedalieri fuori regione. Il Molise, stando ai dati del Servizio Sanitario Nazionale, è l'unica regione del sud con il saldo inattivo. Un risultato questo dovuto quasi del tutto al Neuromed, l'Istituto di Ricerca e Cura di Pozzilli, che accoglie ogni anno tantissimi pazienti. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. In Italia i viaggi della speranza verso altre regioni sono in calo, quasi 200.000 e meno rispetto all'anno precedente, ma a sud il saldo resta comunque negativo, con una sola eccezione, il Molise. Il dato emerge dalle schede di dimissioni ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, compilate nel 2017. Andando più a fondo nell'analisi, si capisce anche perché. Se la nostra regione può vantare saldi inattivo, sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda il numero di pazienti attratti, lo deve quasi del tutto al Neuromed di Pozzilli. Si legge su quotidianosanità.it. La mobilità attiva è legata praticamente tutta all'Istituto di Ricerca e Cura della provincia di Sernia, scrive il giornale online specializzato in sanità. Un centro di rilevanza nazionale e di altissima specializzazione per malattie che riguardano la neurochirurgia, la neurologia, la neuroreabilitazione e tutte le applicazioni relative alle neuroscienze in cui sono utilizzabili la neuroradiologia, l'angiocardioneurologia e la chirurgia vascolare. Proprio questo ampio ventaglio di specializzazioni consente di attirare pazienti da tutta Italia. Anche perché è bene ricordare il binomio ricerca e cura sviluppato dal Neuromed riesce a dare risposte e speranze concrete a chi le aveva perse del tutto, come nel caso di alcune malattie rare. Del resto basta farsi un giro a Pozzilli per comprendere quanto siano aderenti alla realtà i dati ricavati dai ricoveri ospedalieri. Intorno alla clinica ogni giorno è un continuo via vai di gente che tra l'altro porta benefici anche all'indotto. In paese infatti in questi ultimi anni sono state aperte molte attività commerciali e ricettive come bed and breakfast e affittacamere. Nel frattempo il parco tecnologico continua a essere un costante punto di riferimento per studenti e ricercatori, in alcuni casi provenienti anche dall'estero. Verso le elezioni amministrative tra incontri, scontri e polemiche. A meno di 20 giorni dalla presentazione delle liste manca ancora l'ufficialità dei candidati a sindaco del centro-sinistra e del centro-destra per le città di Campobasso e Termoli. Se ne parlerà questa sera a Moby Dick in diretta al 21 su Telemolise. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno Paola Liberanome del Movimento Io amo Campobasso, Francesco Pilone, Democrazia Popolare, Pino Libertucci, Italia in Comune, Angelo Santori, Movimento Campobasso del Futuro, Simone Cretella del Movimento 5 Stelle. Interverranno anche Michele Durante e Vittorino Facciolla per il PD. A Nelsa Tartaglione invece per Forza Italia. Boiano si tinge di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. L'iniziativa, promossa dall'associazione Il Mondo e Noi, ha visto l'adesione di comune, scuole e commercianti per una giornata finalizzata alla promozione di percorsi di inclusione. I dettagli nel servizio di Fabiana Abbazia. Nel 2008 la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Undici anni dopo la sensibilità generale è aumentata, ma per migliorare i servizi è necessario fare di più, soprattutto per contrastare la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. E' con questo intento che a Boiano è stata celebrata questa ricorrenza. Non un giorno di festa, ma un momento per riflettere e per fare il punto sull'avvio di percorsi di inclusione sociale. Promossa dall'associazione Il Mondo e Noi e dall'amministrazione comunale del Centro Matesino, l'obiettivo comune delle iniziative messe in campo è quello di sostenere in termini sociali il percorso di integrazione delle persone affette da questo disturbo cognitivo comportamentale. Protagonista della prima parte della giornata, l'istituto comprensivo Amatuzio Pallotta. All'incontro con gli studenti ha poi fatto seguito l'appuntamento a Palazzo Colagrosso, interventi e testimonianze durante il convegno in cui l'attenzione è stata rivolta anche al dopo di noi, inteso nella costruzione di un progetto di vita e di ruolo nella società che appartiene ad ogni individuo. Insomma, un'integrazione che miri davvero a sostenere la partecipazione attiva della persona con disabilità nel contesto di riferimento. Ma l'incontro ha rappresentato anche l'occasione per riflettere sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2017 che per la prima volta ha individuato appropriati livelli essenziali di assistenza. Un proposito messo nero su bianco, ma che, come è stato ribadito nel corso del convegno, occorre ora mettere in pratica attraverso azioni sperimentali capaci di fare sistema, proprio in ragione della specificità della tutela delle persone con disturbo dello spettro autistico. Una giornata quella celebrata alle pendici del Mattese resa possibile dalle associazioni che operano sul territorio al fianco di moltissime famiglie impegnate a far fronte ogni giorno a troppe difficoltà specialmente quando i servizi da attivare scontrandosi con la mancanza di fondi e una lentezza burocratica a volte senza fine rischiano di restare un miraggio. Quel corteo tra le vie di Boiano in fondo ha voluto lanciare proprio questo messaggio non arrendersi alle difficoltà e la consapevolezza è solo un punto di inizio per costruire un percorso in favore delle persone affette dall'autismo e dei loro familiari. Parte oggi a Roma la tre giorni del Congresso Internazionale di Medicina Biointegrata. 42 relatori provenienti da tutta Europa illustreranno le nuove frontiere in fatto di ricerca, salute e benessere. Tema dell'incontro biennale sarà la malattia, momento quantico e resilienza. L'evento si svolge nelle sale dell'hotel Ergife. A presentare i lavori, in apertura dell'evento, il molisano Franco Mastro Donato, presidente della Società Italiana di Medicina Biointegrata e docente universitario. Bene, con questa notizia ci fermiamo. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali e dei nazionali. Iniziamo con il giornale del molise.it. In apertura GAM, Amadori ci ripensa e ritira il suo progetto. Regione immobile, è stato detto, intanto buio sulla filiera avicola. Le altre notizie, rivoluzione ferroviaria, sindacati cautamente ottimisti, hanno detto notizia attesa da troppo tempo. A diserni adesso contratto istituzionale di sviluppo, Arcuri di Invitalia incontra gli amministratori comunali. La cronaca da Mafalda, tragico infortunio sul lavoro, cade da un tetto e muore un uomo di 40 anni. E ancora, per quanto riguarda gli interventi dei carabinieri, controlli nel settore edile, siamo a disernia, da parte dei militari dell'ispettorato del lavoro, scattano denunce e sanzioni. Ci sono, vedete, diversi altri titoli e richiami, in basso la sezione editoriali, idee ed opinioni, con questa notizia, c'è questo approfondimento, autismo, lettera di una madre, alcuni figli si amano di più, e si parla appunto di autismo. Poi le notizie dalla Regione e dall'Italia. Aperture diverse per i quotidiani che troveremo in edicola oggi, iniziamo da primo piano, vertenza Amadori, Toma, convoca sindacati e Gamma. Domani vertice a Palazzo Vitale. Il governatore stiamo verificando con l'azienda se è possibile rivedere la decisione di non costruire il macello, ma la rinuncia per ora permane. Saranno però potenziati incubatoio e allevamenti. La priorità è ottenere altri sei mesi di cassa integrazione per i lavoratori, obiettivo sempre più alla portata, è stato detto. Le altre notizie, vedete questa foto con l'ospedale Santimotio, precipita dal tetto di un cavannone, quarantenne perde la vita, stava sostituendo i pannelli sul tetto di un cavannone quando, appunto per causa in corso di accertamento, un quarantenne abruzzese, titolare di una ditta di carpenteria metallica, è precipitato. Parla il procuratore generale, Molise nella morsa delle infiltrazioni mafiose, Rispoli alza il livello di guardia, questo dunque, è quanto detto il procuratore generale, c'è un approfondimento a pagina 3. La politica, centro-destra, nessun passo indietro del sindaco del capoluogo, sarà della Lega, a Termoli, Facciolla e Venitelli, ai ferri corti. Si torna a parlare di avoglio superficie, in particolare quella di Cantalupo, che è nel piano di sviluppo, il progetto presentato in Prefettura Isernia, nel summit tra Invitalia e amministratori locali. Restiamo di Isernia, giunta allargata, PD e Casa Pound contro da Pollonio, ha salvato la poltrona, è stato detto. Poi un appuntamento a Campobasso, alla chiesa di Sant'Antonio di Padova, la messa di domenica, sarà trasmessa in diretta da Rai 1. nella rubrica il Ponte Molise Pride, seconda edizione, c'è chi dice no, un articolo, la firma di Mara, Iapuce, in basso, lo sport derby, tra Olimpia Agnonese e Campobasso, prevendita al via, polemiche per i tagliandi. Agnonese è decisa ad alzare il costo a 15 euro. Descontro salvezza, siamo a Isernia, Silva studia l'Avezzano, dice, è una squadra fisica e aggressiva. Infine il calcio a 5, lo Sporting Venafro, insegue il sogno Coppa e Serie B. Ci spostiamo adesso sul quotidiano, dedica spazio di apertura alla cronaca, morire di lavoro a 40 anni, una lunga scia di sangue. La vittima è Massimo Roberti di Lentella, è scivolato sul tetto del capanone ed è precipitato da 8 metri. Disgrazia, dunque, ma falda in una cantiere di contrada pianeta. Di spalla, avio superficie, il progetto passa nelle mani di Invitalia per il finanziamento, in pratica si parla del contratto istituzionale di sviluppo. Gli altri titoli, sui tavoli romani, arriva la vertenza molise, incontro tra Toma, Mazzuto, il sottosegretario Durigon, Gam e le altre problematiche, oggetto della riunione. Da Campobasso, messa a dimora, una nuova pianta nel Giardino dei Giusti, l'iniziativa del liceo Romita. Cronaca da vinchiaturo, furto di gratta e vinci e sigarette da 27 mila euro. I carabinieri catturano una banda di albanesi. Tra le brevi, trasporti, altri grattacapi per i pendolari. in Val di Sangoro, dall'Arino invece, dopo il sabotaggio, tornano normali i valori dell'acqua. A Campobasso adesso comunali, ultimi ritocchi per completare le liste. A proposito di politica, audizioni sul bilancio, arrivano, si parla del bilancio regionale, arrivano critiche da Coldiretti e dalla Will. In alto lo sport, confronti rosso-blu, vincenti quattro volte su sette ad Agnone. Intanto rincarati i prezzi dei biglietti, scrive il quotidiano. Dai Sernia, missione salvezza, Biscotti ci crede, dice Avezzano, prima tappa fondamentale. Infine, nel campionato di eccellenza, il Termoli non si presenta a Roseto, 0-3 a Tavolino e penalità di un punto in classifica. Torniamo sul web con Futuro Molise, anche qui in evidenza questa notizia, cade dal tetto e muore, tragedia del lavoro a Mafalda. Dai Sernia, controllate dai carabinieri, due società operanti nel settore edile, scattano denunce e sanzioni. Coldiretti esprime perplessità sul bilancio agricolo regionale, abbiamo visto un intervento anche da parte della Will, da Will, fine Acem, alla regione è ora di pagare le imprese edili. Vedete, in basso ci sono diverse notizie di attualità, poi la sezione politica, dai Sernia, istituto comprensivo San Giovanni Bosco, presentato un elaborato dal titolo Giochi senza frontiere di tempo. Politica interna, ma anche l'area di crisi in Libia, sui maggiori quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere, rimborsi lite nel governo. Tensioni dunque tra Conte e Tria, salta la norma via libera, salvo intese, solo al testo sulla crescita. Il Movimento 5 Stelle, rinvio per il decreto sulle banche. La Lega replica, troppi no, si cambi, passo. Dicevamo, dalla Libia, Haftar attacca e avanza su Tripoli. La mossa del generale, intanto arriva l'appello di Stati Uniti, Italia e Francia, affinché si fermi. Di spalla, nave tedesca con migranti, Salvini chiude. Avviso a Berlino, dice, non vengano da noi. Adesso ci spostiamo su Repubblica, titolo a tutta pagina, La Lega abbagliata dal potere. Ed è una frase virgolettata. Di Maio va all'attacco dunque. Vogliono prendersi tutto, dice il leader dei 5 Stelle. I leghisti, basta con il no, troppe lentezze nel governo. Banche, intanto ancora un rinvio sui rimborsi, ai risparmiatori truffati. Tria si smarca, dice nel documento di economia e finanza, solo numeri veri. Ci sono delle tragedie nel mondo, forse qualcuna anche dimenticata. C'è oggi un reportage, viaggio nel paese devastato dal ciclone e dove ora imperversa il colera. E questa foto drammatica fa vedere una bambina di 11 anni che si risveglia tra i sacchi di plastica che la proteggono. Siamo in Bonzabico, l'apocalisse negli occhi dei bambini, scrive Repubblica. Adesso la stampa, in alto, Haftar marcia su Tripoli, arrendetevi. La Libia dunque è di nuovo ostaggio della guerra. Il generale Haftar ordina alle truppe di avanzare verso Tripoli. Poi le questioni interne, quelle nostre, banche, Tria si impone su Di Maio, rinvio sui rimborsi per i truffati e nel decreto crescita spunta una norma salva raggi. L'esecutivo si farà carico del debito di Roma. Adesso il sole 24 ore, qui chiaramente si parla del decreto crescita, c'è l'ok, rinvio sulle banche. Ci sono degli approfondimenti, cosa ci sarà, per esempio su Fisco e Società, Ires ridotta dell'1,5% nel 2019 per l'utile che resta in azienda. E ancora le altre notizie in basso, invece economia tedesca in difficoltà. A febbraio ordini giù del 4,2%. Dal sole a libero, Grillo assediato dai debiti. Vediamo cosa succede. Sono decine gli ex 5 Stelle cacciati che chiedono i danni al comico. Le regole del movimento non reggono in tribunale e il fondatore ha già quattro condanne. Per questo vuole mollare tutto, secondo Libero. Pentastellati lo bombardano di cause. Poi c'è anche quest'altra notizia in basso, la castrazione chimica è una cura, non un delitto. È praticata in molti paesi, se ne sta parlando proprio in questi giorni. Ci spostiamo sul messaggero. Banche, pasticcio, rimborsi, scontro tra Lega e Di Maio. L'Ite al Consiglio dei Ministri, leader 5 Stelle contro Tria. Salvini dice ci sono troppi no. Tutto intanto rinviato a martedì. Per quanto riguarda le questioni della capitale, vediamo anche qui a Fattara in marcia, a Serio a Tripoli, il mondo resta con il fiato sospeso e c'è questa foto con questa lunga colonna di mezzi militari. Intanto andiamo a Roma, Roma, Rom, ancora attenzioni, altre periferie a rischio, raggi, teme, l'escalation. Chiudiamo il messaggero per spostarci sul fatto quotidiano. Europarlamento, cosa hanno fatto gli italiani in 5 anni? Dunque ci sono pagelle e presenze. Siamo diciottesimi su 28. Barbara Spinelli, ex lista Tsipras, al primo posto, maglia nera, invece all'ex governatore del PD Renato Soru. Centropagina di Sassu in Libia, Aftar, amico di Macron, in marcia su Tripoli. Libia affidabile, se lo chiede il quotidiano della CEI, avvenire. Truppe verso Tripoli, sui soccorsi, altra chiusura di Salvini, scrive avvenire, che attacca il presidente della CEI, cioè Bassetti. Offensiva di Aftar, paese nel caos, nave ONG verso l'Italia, Berlino la fermi, è stato chiesto dunque l'intervento di Berlino. Intanto il presidente della CEI, Bassetti, soccorrere, non respingere, le istituzioni si assumano le responsabilità. Avvenire ricorda anche la tragedia dell'Aquila, dieci anni dopo, Petrocchi, ricostruire anche le coscienze. Il Manifesto, un titolo sempre ad effetto, lo vediamo, così poi lo spieghiamo anche, la piattaforma Truffo, multa da 50 mila euro per la piattaforma Rousseau, bocciata su tutta la linea. Per il garante della privacy, l'associazione di casaleggio non garantisce la regolarità e l'anonimato del voto online. È manipolabile, è stato scritto, le correzioni apportate dai 5 Stelle sono inadeguate, anche questo è il termine messo tra virgolette. Il mattino di Napoli, vediamo subito questa notizia di cronaca, circunfesuviana, non è stupro, la ragazza racconta bugie. Il Tribunale del Riosame, il rapporto è consenziente, i video scagionano i tre giovani arrestati. La cartella clinica parla di una persona bugiarda, patologica, che vive il sesso in maniera complessa. dal mattino di Napoli all'attempo di Roma viene giù anche il muro di Vodafone, un'apertura diversa, la crisi mordi addirittura il gruppo simbolo della crescita record dei nostri telefonini. Ha dichiarato 1.130 esuberi in Italia evitati, mettendo in solidarietà 4.870 dipendenti. E adesso la verità, chi ricatta il ministro Tria, manicomio a palazzo, il sottosegretario Buffagni dei Cinque Stelle accusa apertamente di azioni scorrette il collega di governo, il quale continua a non spiegare gli intrecci e i conflitti di interessi rivelati proprio dal quotidiano la verità. E Giorgetti alludea dei grillini vogliamo risposte è stato detto. Quest'altro titolo la mafia nigeriana si è presa pure la Sicilia. Riti horror con i picciotti che bevono il proprio sangue e tanti affari criminali che sono sottovalutati da tutti. Il secolo vince l'antistato la Isoardi porta in tv il caso dello chef giunta protetto solo in Sicilia. fatto dunque un'apertura totalmente disversa rispetto agli altri quotidiani. Poi andiamo Torre Maura il no dei Rom vogliono andare via da quella rione. Infine la gazzetta dello sport con una notizia sicuramente confortante Champions torna il re. A cinque giorni dal match della Juve contro l'Ajax cresce l'ottimismo dei medici Cristiano Ronaldo sicuro di recuperare e di giocare. Poi si parla anche del turno di ieri Serie A ciclone Atalanta Bologna Travolto e adesso Gasperini pressa il Milan a meno uno in basso carissimi nemici Icardi Perisic la strana coppia si torna a parlare ancora di Ken uno di noi Asti racconta il mondo di Moise una gazzetta scopre dove è cresciuto il talento che segna a ripetizione. Bene anche oggi con la gazzetta concludiamo il primo appuntamento con la nostra informazione grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata vi ricordo alle 14 la seconda edizione del TG arrivederci grazie per la visione